Gentili telespettatori, buona giornata dal primo di gennaio, poi magari lo spostano al primo di febbraio, primo di marzo, primo di aprile, poi arriva al primo di dicembre, vabbè, comunque teoricamente dal primo di gennaio arriva l'aumento delle pensioni. Giorgetown ha firmato il decreto. Imbusta l'adeguamento all'inflazione calcolata dai dati forniti dall'Istat a novembre, quindi con il novembre di quest'anno viene praticamente stabilita, anche se in anticipo sulla chiusura dell'anno, l'inflazione annua per poi stabilire gli aumenti delle pensioni per l'anno successivo. Come vi dicevo, teoricamente a partire dal primo gennaio 2024, ma poi come al solito i governi non hanno i soldi e quindi poi l'aumento delle pensioni slitta con gli arretrati più avanti. Un po' come fanno con i contratti nazionali. Non hanno i soldi, allora pospongono sempre tutto. A partire dal primo di gennaio scatta un adeguamento all'inflazione pari a più 5,4% degli assegni pensionistici. Il ministro dell'economia della Lega Giancarlo Giorgetti comunica che il concreto, o meglio, che di concerto con la ministra del lavoro Maria Elvira Calderone, hanno firmato il decreto. L'aumento che verrà riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa è stato calcolato sulla base delle variazioni percentuali che si è verificato negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat al 7 di novembre 2023. Quindi diciamo due mesi prima della fine dell'anno perché se ci fate caso praticamente l'inflazione viene già stabilita su dieci mesi e non su dodici perché il decreto bisogna farlo prima che finisca l'anno. Poi eventualmente ci sono dei correttivi a inizio anno, ma oltre alle pensioni c'è il nuovo taglio del cuneo fiscale che costa 10,7 miliardi. E quindi dal prossimo anno al cuneo fiscale che è del 7% fino a 25 mila euro e 6% fino a 35 mila euro si aggiunge anche il taglio delle aliquote IRPEF con l'accorpamento dei primi due scaglioni. Quello fino a 15 mila euro e quello tra 15 e 28 mila euro ai quali si applicherà dal prossimo anno la stessa aliquota prevista fino a oggi per il più basso ovvero il 23%. Se facciamo una media questa misura porterà un beneficio netto di 1000 euro in più all'anno nelle buste paghe degli italiani per avere un'idea all'equivalente all'incirca degli 80 euro di Renzi. Per esempio facciamo un esempio come cambia la busta paga per un reddito mensile lordo di 1000 euro che è netto è 996. L'aumento per il taglio del cuneo fiscale di 54 euro, l'aumento per la nuova IRPEF 6 euro, 54 più 6 euro, per chi ha un lordo mensile di 1000 euro c'è un aumento di 60 euro, un 6%. Ma attenzione, il taglio del cuneo fiscale di 54 euro c'erano già, quindi chi guadagna 1000 euro avrà da gennaio 6 euro in più, in busta paga rispetto ad esso. Per esempio, chi ha un lordo di 1500 euro, cioè un netto di 1339, ha un aumento per il taglio del cuneo fiscale di 69 euro e un aumento per la nuova IRPEF di 6 euro. Quindi 75 euro in totale, ma realmente 69 euro ce l'aveva già, ci sono 6 euro in più da gennaio, pertanto sono 72 euro, 75 euro totali all'anno. O 72 euro in più all'anno, diciamo. Con un reddito mensile lordo di 2000 euro, quindi un reddito netto di 1663, il taglio del cuneo fiscale è 84 euro, l'IRPEF 16, aumento totale 100 euro. Ma effettivamente sono 16 euro in più al mese da gennaio. Chi ha un mensile lordo di 2005 e un netto di 1960 ha il taglio del cuneo fiscale di 84 euro, 20 euro di IRPEF e 104 euro. Ecco, questo è il caso più alto. Chi ha un reddito intorno ai 2.500 euro lordi al mese, cioè 1.960 netti al mese, avrà l'aumento più alto di tutti, 104 euro. Attenzione, attenzione, passando a 3.000 lordi, cioè 2.127 netti al mese, taglio del cuneo fiscale 0, si ha solo l'aumento dell'IRPEF di 20 euro. Quindi, chi guadagna 3.000, chi guadagna 4.000, chi guadagna 5.000, chi guadagna 6.000, 7.000, tutti quelli che guadagnano da 2.500 euro lordi al mese in su, porteranno a casa solo un aumento per la nuova IRPEF, cioè 20 euro, diciamo un 20 euro totali. I 20 euro sono 20 euro al mese e quindi ci si troveranno, se c'è la tredicesima abbiamo 12 mesi, 240, 260 euro in più all'anno con la tredicesima. Mentre quello che ha i 2.500 lordi al mese si trova un 1.240, 1.250 euro in più all'anno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie, buona giornata, ricordatevi che c'è Teleitalia Seconda Rete dove trovate video come questo, poi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia c'è sia i video di Teleitalia che quelli di Teleitalia Seconda Rete che vengono poi condivisi dopo qualche ora e lì a vostra volta li potete condividere. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.